Ancora problemi idrici a nebbuno. Così il sindaco Fabrizio Favino. L'acqua viene ancora captata da colazza. Ma la cartiera Donati, spiega il primo cittadino, ha ripreso a lavorare e quindi non ci si può attingere dal vicino torrente. La situazione è migliorata perché sono diminuiti i villeggianti e la richiesta idrica è calata e sono stati chiusi meno spesso i rubinetti di notte. E' live 24 ore su 24.